Guarda questo tifoso del Milan, se non vuoi perderti nessuna notizia dal Milan in prima persona iscriviti subito a questo canale, perché siamo sempre al corrente delle ultime notizie dal Milan e qui rimani sempre al corrente di tutto ciò che riguarda il Milan. Uno degli obiettivi che il Milan ha tentato in estate è stato Renato Sanchez, e l'estate potrebbe essere l'occasione per riprovarci. Calciomercato.com scrive come la scelta di Sanchez al Paris Saint-Germain non stia dando al momento i frutti sperati, con il centrocampista portoghese che ha ricevuto un'offerta dal Milan che ha individuato in lui il profilo giusto, per sostituire l'uscente Frank che si è. I rossoneri hanno aspettato Sanchez, tanto da perdere l'occasione di lavorare con l'arrivo di Enzo Fernandez. Sanchez ha scelto di lasciare il Lille per trasferirsi al PSG, che gli versa 5 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di euro di bonus, un contratto più ricco di quello offerto dal Milan. Tuttavia, ciò che il PSG non ha garantito è la stessa centralità nel progetto, con Sanchez che finora ha fatto solo 4 partenze e 17 presenze in totale sotto la guida dell'allenatore. Non è lo scenario che sperava e dopo qualche mese la situazione comincia a farsi sentire. Lasciate già il vostro like su questo video, perché è molto importante per voi non perdere le ultime notizie sul Milan che pubblichiamo qui, grazie. Dopo la partita contro il Montpellier, il centrocampista ha detto chiaramente come si sente. Sono tornato dall'infortunio, so che è un po' complicato e un po' frustrante perché è difficile giocare bene quando si torna da un infortunio. Ma mi sento bene, devo solo tornare a giocare un po'. L'allenatore sceglie la squadra. Non sono contento, è normale che voglia giocare sempre di più. Ma rispetto la decisione dell'allenatore e sono qui per dare il massimo. È qui che il Milan può tornare. Considerando che il tecnico sta pensando di passare dal 4-2-3-1 che lo ha portato al diciannovesimo, scudetto a un 4-3-3, Sanchez potrebbe essere il partner ideale per Ismael e ben nascere Sandro Tonali. Il PSG potrebbe valutare una formula di trasferimento agevolata per non sottovalutare troppo. L'investimento di 15 milioni di euro fatto la scorsa estate. Con il tempo sarà più chiaro se l'idea potrà tornare a essere concreta. Tifosi del Milan, secondo voi Renato Sanchez è quello di cui il Milan ha bisogno o no? Qual è la sua opinione? Scrivetelo nei commenti, perché è molto importante per il nostro rosoneiro team. Restate sintonizzati, perché in qualsiasi momento vi aggiornerò con le ultime notizie da Milano.